Devo aggiustare lo spararagnatele. È stata dura inventarlo. C'erano molte difficoltà tecniche. Mi ricorda Iron Man, il più grande inventore che ci sia. Abbiamo unito le nostre menti per risolvere un problema. Un gran bel problema. Eleganza! Che cos'è? La città non riesce a smaltire i rifiuti, quindi ho inventato dei camion super tecnologici. Non inquinano, consumano poco, separano i materiali e sono magnifici, come me. Profuma di fragole. È unico. Il robot malvagio Ultron. Anche se questo furgone l'hai inventato tu, Iron Man. Adesso appartiene a me. Non voglio essere scontato, ma un robot che vuole conquistare il mondo ti ha rubato il furgone. E allora andiamo a riprendercelo. Ehi Ultron, che fai con quel camion della spazzatura? I tuoi sono luridi misfatti, ma... Dopo aver inquinato tutta la città e averla resa inabitabile, voi umani ve ne andrete via. E finalmente sarà tutta via! Oh, che schifo! Non è carino, Ultron? Bene, li ho seminati. Ora! Ehi, fermo! Ragnatele sulle ruote! E ora i ragnatele dappertutto. Un tentativo inutile. Questa città appartiene a me. Fuoco! Non gli fa niente! Se non lo battiamo con la forza, usiamo la testa e troviamo un modo per sconfiggerlo. Costruiremo qualcosa. Tra me e te abbiamo un bel po' di materia grigia. Pezzi di pc, una scheda. Buccia di banana e un vestitino. Aspetta, utilizziamo questa. Dobbiamo usare quello che abbiamo. Se avessi più tempo e pezzi farei di meglio, ma... Questo non è malazzù. Oh, è profuma di pesca. Sì, è unico. Quando avrà finito, questa città sarà brulla e desolata. E nessuno... Scusa, Ultron. Ti interrompo per dirti che non impesterai la mia città. Il nuovo blocca segnale blocca il sistema interno e manda in tanti circuiti. Devo riuscire a liberarmi. Spidey, c'è un pannello sulla schiena di Ultron. Premi il pulsante di spegnimento. Devo calibrare il lancio. Più vicino e più deciso. Forza, forza. Centro! Sì! Quindi non distruggiamo Ultron? No, lo ricicliamo in un robot raccogli spazzatura. Ora gli spararagnatele funzionano bene. Oh, abbiamo apportato ottime modifiche. Mmm, profuma di cioccolato. È proprio unico. Alla prossima! Woohoo!